tier list modern le regole penso che le sai io sono tier 1 poi tier 1 e mezzo che sono i mazzi un pochino meno forti dei tier 1 poi c'ho i tier 2 che sono i mazzi un po' meno efficienti ancora poi c'ho i tier 3 che sono i mazzi veramente un po' ormai fuori meta per varie sfighe e poi c'ho i tier xd che sono i mazzi belli che sono i mazzi divertenti per chi è divertente che però possono sorprendere siamo qui con Lorenzo vai presentati c'è poco da dire sono una povera persona che ogni tanto provo a direttarsi su magic anche su youtube tra le altre cose bravo dillo 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 che ti taggo ci sono tutti i link sotto ma smettila sei più bravo di quello che pensi e ti impegni meno di quello che vuoi allora diciamo che non è il momento migliore perché è prep for seasons ma ci sarà la banlist lui lì e dai a freddo a caldo vai cosa toccano no è veramente la domanda più difficile forse anche più difficile di un esame di anatomia questa domanda qui perché penso che è impossibile che o fanno veramente una presa di posizione e banano più carte ma se fanno tipo il ban paraculo che banano solo una carta tanti dicano fiori e io ho paura che proprio rinoceronti con con l'avvento di tisciana che anche rinoceronti gioca dalle due alle tre fiori abbia dato proprio quel quell'appata in più a fiori proprio giusto 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 per renderla papabile di ban però io ho paura anche per orchetti se devo essere onesto orchetti e anello secondo me sono ancora troppo freschi freschi di ristampa adesso sì ma però hanno detto che ora non non ho detto a modo tutti gli annunci e tutto però sembrerebbe che la wizard abbia detto che c'è troppo punish per tutte quelle creature con uno di costituzione non penso sia solo per fiori o orchetti perché sta roba qui ormai c'è in modern da quando è uscito Brandon 6 quindi però anche orchetti è uno che pulisce veramente tanto le creature con uno di costituzione proprio l'altro giorno lo giocavo ho beccato Tony ho vinto un game a turno 2 dove orchetti gli toglie la ex drinker e la 2 1 che lo fa testare direi forte direi forte no comunque dai è per quello che mi preoccupa no no ci sta comunque dai allora partiamo dai sicuramente senza bando alle ciance il tier 1 del formato è sicuramente il buon scam poi mettiamo Rino Ceronti mettiamo Rino Ceronti scam che non trovo l'immagine c'è un griffo volante lì sulla destra accanto a Goblin Guide eccolo qua volava un po' non so perché vabbè direi che adesso i 2 tier 1 del formato sono questi no? sì allora onestamente se li dovessi mettere per power level io non so se in questo preciso momento storico del modern forse Rino Ceronti va avanti dico a power level a scam scam forse è un pochino più consistente perché ha il doppio piano un po' come tutti i deck che performano meglio ora in modern piano scammata piano mid range straforte però Rino Ceronti ora con con Tisciana veramente è mostruoso sì 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 no ma è più che altro perché prima scam teneva a bada teneva a badare Rino Ceronti non solo con classico Dauti ti rifaccio i tuoi Rino Ceronti ma con l'enchant oddio non mi ricordo come si chiama la saga quella nera e rossa a costo 3 che esilia tutti i permanenti a costo 1 ed è Tsubu che è fortissima e poi anche con con gli esplosivi cioè e ora Tisciana prende tutto questo quindi se già Rino Ceronti riesce ad impostare un buon piano mid range con anche la potenza di poter utilizzare al massimo anche il suo piano Rino Ceronti è forte sta roba veramente forte sì per tutti quelli che si erano persi il periodo Tron con Ulamog Cascade ha insegnato a tante persone cos'è una un'abilità innescata guarda guarda oh sì allora onestamente Cascade The Beanstalk lo metterei come io personalmente come tier uno e mezzo ha perso un po' nell'ultimo periodo cioè prima forse per la novità per per il discorso mazzo che fa robe che tra virgolette tantissime virgolette non si erano mai viste tipo vincere DJs perché si decca da solo e cose così magari è stato un po' l'hype del momento ora è un po' scemato però chiaramente è un deck sempre fortissimo però mi sembra che abbia molte più sfighe dei due deck che diciamo stanno dominando il formato anzi secondo me ce ne sono tante di deck ma non spoilerò nulla ancora quindi secondo me ha un buon tier uno e mezzo perché comunque se la gioca bene sia contro rinoceronti che contro scam ma chiaramente loro due secondo me hanno una maccia superiore beh che secondo me esatto l'irruzione ci siamo non ti preoccupare e vabbè questo sono d'accordo perché quando era un po' la novità del formato a me si aveva proprio spaccato un po' la gente perché col jace col fatto che pescava così tanto sembrava un mazzo imbattibile in realtà ha un sacco di sfighe e gli altri invece il 4c normale invece 4c normale secondo me in questo momento è un tier 2 cioè potrebbe anche essere tier 1 e mezzo se le persone scusatemi a questa prova devo dire se le persone si mettono in testa che anello e up the install che nel solito mazzo non si possano vedere cioè ho visto veramente sia su mtgo ma anche tabletop in real va di vpnq tornei fatti c'è letteralmente i 4color che si auto uccidono con 3 up the beanstalk sul board e tu devi fare le tue spell ma hai peschi 3 carte a botta più hai pescato di anello quindi bravo te esatto peschi tutto il mazzo questa è una cosa che avevo notato anch'io sai quando l'avevo riportato il mazzo a 4seasons quando era appena uscito up the beanstalk senza piano jace e cazzo la certa ti peschi il mazzo davvero poi è sempre lento è anche un discorso anche dei tornei cioè fuori dall'online è un mazzo che sia questo che l'altro cascade soffrono il fatto che non chiudono mai e questo è una roba incredibile dicevo che secondo me fondamentalmente cascade up the beanstalk c'è comunque sia il fatto di jace quindi velocizza un attimino la situazione magari i mirror i mirror potrebbero letteralmente rischiare di far patta 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 eh si vabbè calibrated blast io lo metto io in mazzi xd ma possono sorprendere perché secondo me possono sorprendere affiniti secondo me è un tier 3 anche se ha messo dentro fagiolino secondo me rimane un mazzo veramente poco poco efficiente invece zotto dove lo metteresti non ce la fa poverino mi spiace perché è un mazzo che secondo me farebbe rientrare tantissima gente a giocare se fosse un mazzo in meta però purtroppo non ce la fa invece zotto dove lo mettiamo zotto è sempre sempre lì secondo me è un buon tier un buon tier 2 solido forse anche sopra secondo me anche sopra for color omnat perché zu appare che c'ha tante varianti e quindi anche chi si trova a giocarci contro non sa bene mai a cosa girare a cosa girare intorno perché c'è quella con gli app dei binstalk quella più dritta con i gatti molto creaturoso alcuni provano le scammate quindi è molto difficile inquadrare bene che genere di versione hai davanti addirittura mi sono trovato generare ferocious i davanti che non sai cosa dirgli però comunque secondo me è un deck forte molto forte e molto underrated anche secondo me anche secondo me ed è sempre lì perché nelle partenze super spinte ha comunque carte che fanno cose ed era la sfiga principale di Zodio in un tempo era il fatto che tu giocavi a bestie giganti ma non facevo niente e invece Cavu fa qualcosa Shaun of Draco fa cose che molte volte non ti ricordi anche perché non te la vuoi leggere ma infatti esatto la potenza di Shaun of Draco e mi pare che si è visto anche in live a un championship che Oppos ha totalmente ignorato l'altra abilità di Cavu che penso che nessuno di noi abbia in mente bene cosa faccia Cavu in base ai colori delle creature sul board è vero è quello che unisce quello che unisce assolutamente assolutamente invece parliamo di un qualcosa che è entrato e poi una meteora del formato il mazzo Ensole The Artifact quello di Nassif con Boom Burst l'intero artefatto una X una X c'è già basta una D e già l'immagine è fatta da sola esatto anche secondo me ma questo è proprio l'emblema di un TRXT cioè è un mazzo che cazzo è oggettivamente buffo però nel momento giusto quando la gente non se lo aspetta vince perché quella challenge lui se l'è mangiata perché aveva questa queste carte che la gente non si ricordava neanche sì ma vabbè più che altro questo è proprio è stato un deck emblematico di quel momento in cui effettivamente c'era uno spam di app di Beanstalk assurdo nei preliminari nelle challenge tale per cui cioè io penso che sto mazzo qui abbia quasi il buy contro Cascade di Beanstalk perché non hai modo di interagire con come è che si chiamano Doom Doom Burst non mi ricordo più il nome della carta Doom Burst è inevitabile che a un certo punto la prendi e poi comunque Tislanda è quello cioè ti fa rimanere indietro di mana lui fa valore con le sue terre perché comunque alcuni ho visto che giocavano anche Cleansing Wildfire per farlo sulle sue indistruttibili e rampare o comunque sia Tislanda Tislanda a te Abde Beanstalk è assolutamente un mazzo che ha bisogno delle lande cioè se non ha le lande fa poco a parte alcune partite però di te vuole almeno la quarta landa sul board eh tirane fuori uno tu dimmi tu tirane fuori uno tu ascolta io direi Dimir Death Shadow o comunque sia Death Shadow in generale va bene è un mazzo che allora mettiamo sia Death Shadow che Dimir Control ho messo Sauron Ramson anche se non lo giocano ok allora Death Shadow io c'è stata una settimana in cui qualcuno ci ha fatto risultato nelle challenge e nei WPNQ tipo e si è un po' visto in league più che altro Dimir non Grixis Death Shadow boh ma è un deck che secondo me anche questo è abbastanza sottovalutato è chiaro c'ha mille sfighe non è un deck idoneo a farsi magari un torneo da dieci turni che combatti sempre contro Scamma dei Beanstalk così però è un deck che secondo me nelle mani giuste nella giornata giusta può strappare veramente tanto io lo metterei come tier 2 addirittura tier 2 attenzione sì perché non è considerato ma fidati che quando te lo trovi contro ha delle tempo play potentissime fa veramente fast murtide e se devi rispondere a murtide sicuramente poi non puoi rispondere al resto giochi orchetti giochi counter hai interazioni super nuts secondo me è un deck molto interessante e Dimir control lo mettiamo sempre tier 2 sono un tier 3 addirittura così basso povero Dimir control no è lento è lento e adesso la tisciana l'ha spaccata in due poverino lo disintegra no più che altro è un deck che secondo me ha mille sfige vuoi tante lande sul board ma giochi pochissime lande hai un un converted mana cost medio abbastanza alto vuoi giocare 20 lande e sai già che buona parte dei game che giocherai li perderai perché sarai sempre corto di lande però sai anche che se vai ad aggiungere lande al deck togli potenziale al deck che poi ti mancano carte ecco la vera sfiga di questo mazzo che ho notato un po' giochicchiandolo è che altri deck con un anello hanno delle soluzioni al proprio anello invece lui la sua soluzione è fare un altro anello invece tipo 4c tipo a omnat che comunque fa guadagnare vite quindi il fatto che perdi le vite di quella roba lì non è così un problema i mazzi con carnino almeno lo vanno a cercare se ne fanno un altro invece questo a volte l'anello ci perdi ci perdi da solo è sempre uno scemo quando lo succede sì ma più che altro perché cioè se dovessi giocare un deck del genere che basa la sua strategia di gioco su anello shoulder non vedo perché non giocare coffers a sto punto esatto allora parliamo di coffers big mana deck allora coffers e trono prima di tishana secondo me ok coffers secondo me prima di tishana era un tier 1,5 ora tishana è greve io ci ho fatto una league ho perso un'infinità di game provando a slandare ti becchi tishana cioè perché un punto di potenza di coffers è quello di costringere il tuo oppo a giocare male per via degli slandi è perché nel giochi 8 effettivamente è quella la cosa è una cosa sottovalutata sottovalutata ma è in realtà forte ora con tishana ti spenge carne ti spenge anello ti spenge shoulder ti spenge tutto quindi io lo metterei lo metto come tier 2 perché comunque meno di un tier 2 è un deck del genere secondo me è un po' un insulto però ha perso tantissimo tron anche lui forse tier 1,5 secondo me tron è un po' meglio di coffers si è un pochino cioè fa il mestiere di coffers ma riesce a farlo un attimino più lineare un pelo meglio un pelo meglio un pelo più lineare però coffers c'è delle giocate in cui tipo da scam non perdi se ti fanno fiori di primo è questa la cosa e contro trono tendenzialmente hai 8 slandi tra giostri così dice factory lo metto tier 2 si 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 è divertente qualcosa che richiama una x è vero ma ce l'hanno tutti incredibile allora parliamo di uvcontrol uvx più che altro perché il problema di uvcontrol stiamo parlando della versione di anzi di di mille versioni ci sono con ruota eh boh vedi tu quella è un po' più generica io metterei forse narset più ruota perché mi sembra la versione che adesso fa meglio sì secondo me è un tier 2 basso che ogni tanto si guarda sotto e vede il tier 3 però comunque è un deck che ha ricordato la gente che esiste narset quello assolutamente secondo me narset è molto forte anche perché è un'abilità passiva quindi non va neanche in pila che tanti se ne dimenticano cioè io vedo una miriade di persone su mtgo che provano a pescare esatto non siamo in real sicuramente in real l'avrebbero pescato ma i mazzi asmo li metto come i trxt insieme ai mazzi belce murktide qui tocchi una nota dolente eh lo so lo so che il tuo pet deck dici tutto sì sì c'è io sono 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 onestissimo allora se la tier list è veramente quella che stiamo dicendo qui murktide potrebbe anche rischiare di essere un tier 1 e mezzo perché rinoceronti da quando ha dovuto adattarsi a scam ha un matchup un pochino peggiore contro ur sono petite bellissime combattutissime però dipende come come cioè tipo già rinoceronti con le brazen borrower ur diventa un tier 2 proprio diretto rinoceronti con dei tisciana magari senza borrower così secondo me ur trova terreno fertile è un matchup abbastanza even contro scam ur paradossalmente mi sembra a me dalle infinite partite che ho fatto storicamente è un 50-50 con scam più che altro paradossalmente ur regge meglio la scammata cioè sei più felice di vedere scammata e poi dopo che si spenge per qualche turno piuttosto che trovarti turno 1 ragavan turno 2 archetti turno 3 fable lì perdi non puoi far nulla lì concedi e basta per tutto il resto c'è ur è il classico deck che fa una card quality immensa e può scamparla un pochino ur in realtà è proprio il tempo deck che serve in realtà al meta quando è ur tier 1 serve è ottimo perché è un mazzo abbastanza fair che fa delle giocate molto forti ma a sua volta si può settare molto bene in base al meta tipo quando giocavano tutti i martelloni loro si erano settati per battere i martelloni e quel match a pulita molto brutto era diventato meno brutto e in generale è un mazzo che quando il meta si stabilizza un po' brilla sempre un po' di più perché lui si setta sì poi secondo me il discorso cascade dei beanstalk ha puppato molto ur tanti dicono che è un matchup bruttissimo io personalmente non mi sembra così brutto tanto quanto altri matchup che potresti trovare in modern ti dico la realtà su questa cosa qua secondo me e secondo anche chi gioca tanto ur il giocatore scarso di ur non vince mai da the beanstalk perché tu non sai cosa counterare non sai qual è il tuo piano e tu dici boh me la gioco control boh e lì te la perdi perché alla fine non fai nulla bene e fai tutto male invece lì proprio contro quel mazzo fagiolini devi giocartela full tempo come era storicamente contro il matchup contro 4c devi giocartela full tempo con solo giocate per far perdere tempo all'oppo e del vantaggio carto un po' te ne fai la ragione sì un grandi un grandi match però c'è mille volte up the beanstalk cascade che 4c 4color è atroce veramente atroce burn è il nostro amico che non ci ha mai lasciato è sempre lì io sempre lì passo passo perché è un deck che io non so mai identificare bene nel metamod per me è il deck più forte contemporaneamente che c'è in modern quindi lascio il libero arbitrio a te perché mi esplorai solo male allora diciamo che burn è il tier 2 per eccellenza è proprio il tier 2 è un mazzo che fa sempre il suo non è mai quasi mai il mazzo più forte perché vorrebbe dire che chiude di terzo abbastanza facilmente vorrebbe dire che c'è qualcosa che non va però è un mazzo che punisce sempre punisce sempre e soprattutto chi non se lo aspetta e quindi diciamo che fa sempre il suo anche se un giocatore fortunato gli consiglia di giocare più scam storicamente è il mazzo da consigliare al giocatore un po' più novizio magari un po' che si sente fortunato però adesso magari non farei fare sulla scam e Blitz te lo metto come tier 3 anche se mi duole ammetterlo mi duole ammetterlo invece parliamo di mazzi un po' un po' buffi un po' buffi tipo Urza così così ci facciamo bannare dal disco vabbè Urza io si cattivo che ho sempre detto sai che anch'io l'ho giocato tantissimo sto deck è stato uno dei miei deck preferiti Urza ha il suo punto di potenza ma veramente più forte che la gente non ci sa giocare contro cioè concordo il power level più alto di questo deck è proprio le persone che vanno in crisi cioè non sanno bene come comportarsi contro sto deck l'ignoranza 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 e ci sta a parità sì a parità di skill di persone che conoscano il deck che sanno quello che fanno io lo metto come tier 3 fondamentalmente è un deck che può esistere ma ci sono deck che vanno mille volte meglio concordo anche anche creativity ormai è diventato un tier 3 ha un sacco di sfighe martellone uno dei vecchi re del formato martellone è un po' come un R secondo di come gira il meta in questo momento è un tier 2 un tier 1 e mezzo io lo vedo più come tier 2 che come tier 1 e mezzo in questo momento perché l'avvento almeno se piove di quel che tuona come è sulle lighe dei preliminari di mtgo rinoceronti io onestamente se giocassi martellone 2 bozeggio e 4 forze of vigor non sarei contento di accontarlo è un incubo più c'è più c'è fiori boh io se veramente mettiamo come god tier rinoceronti io penso che di diritto martellone vada in tier 2 concordo mi trovo abbastanza in linea su questo anche perché comunque ha la sfiga che sta male da uno dei top tier se non anche un paio di top tier magari anche fagiolini se settato e yogmoth dove lo mettiamo yogmoth 1 1 e mezzo anche secondo me purtroppo ora ho per fortuna ho per fortuna ho per fortuna mi tirerò linting addosso delle persone a parte che in cartaceo c'è una quantità di yogmoth che fa paura di recente ho giocato un torneo quello dipende anche dove stai una 65 di persone eravamo un tavolo su due c'era uno yogmoth parlando anche con altre persone che giocano yogmoth e un po' l'idea che mi sono fatta anch'io affrontandolo è che prima era un mazzo potentissimo ma molto difficile dovevi saper timare bene le giocate dovevi saper giocare attorno a modo alle cose non avevi la carta che la giravi dalla cima del mazzo e ti vinceva da sola la partita adesso ce l'hai il calderone il calderone dalla cima di far diventare i tuoi lupetti e tutto ora ora ce l'hai la carta veramente più forte cioè secondo me se la facevano scrivere ai player di yogmoth una carta da dare a yogmoth non la scrivevano così forte questo mi trovo abbastanza d'accordo e sì anche secondo me io questo era un mazzo che stavo provando a imparare per giocarlo a Ghent ma mi sono reso conto che è un mazzo veramente difficile e che è un po' fuori dalle mie dalle mie abitudini su come gioco io a Magic e quindi l'ho lasciato l'ho accantonato un po' però è un mazzo incredibile tira fuori delle robe dal cappello incredibili ma ti basta una corda ti basta un Eldritch Evolution cambi il game e non ti servono robe tipo l'anello non ti servono il fagiolino non ti serve l'anello non ti serve è anche se vuoi abbastanza fair come mazzo a parte Calderone senti più che altro ti dico una cosa perché tanto la maggior parte delle volte vinci perché fai BG midrange non è che vinci ma infatti ma infatti quello che ti stavo per dire cioè se tu fai caso ai tre mazzi che io reputo i più forti ma un po' anche comunque stai vedendo i risultati giocando su MTGO così sono secondo me i mazzi migliori cioè i mazzi da battere le scelte più solide ma perché sono tutti e tre mazzi che non hanno un solo piano cioè prendendo come esempio Trono o UR sono mazzi forti ma sono forti se riescono ad attuare il loro piano possono adattarsi a giocare qualche piano alternativo UR può diventare un pochino più midrange perché è un deck che si presta un pochino ad essere un deck midrange però non è efficiente come il suo piano ti faccio una creatura difendo quella creatura e ti chiudo con quella creatura certo Rinoceronti Scam e Yagmoth sono tutti e tre deck che hanno almeno due piani che sono fortissimi perché io Rinoceronti giocandolo e comunque sia ho guardato alcune sideboard guide ho visto persone giocarle e tutto cioè contro Scam e contro Yagmoth il tuo piano principale non è più Rinoceronti il tuo piano principale diventa midrange con i Rinoceronti ed è fortissimo cioè hai un piano midrange tempo perché comunque sia secondo me Rinoceronti è il vero mazzo tempo del modern assolutamente sì hai questi due piani che diventano così forti e sinergici fra di loro che fanno sì che sei un deck molto malleabile cioè ti puoi adattare stessa cosa Scam Scam c'hai il piano Scammata che è fortissimo ma c'è il piano midrange che la gente lo sottovaluta ma ragazzi io penso che una curva più forte di quella che ha avuto Scam cioè se la sognava Toxize, Tarnogoyf, Liliana del Velo cioè Orchetti ma ragavano Orchetti Fable perché poi sia Yagmoth che in particolar modo Scam hanno secondo me i drop a 2 più forti del gioco in questo momento i drop a 2 sono molto importanti cioè Yagmoth a seconda del matchup vince praticamente on the spot a turno 2 se c'è Dauti contro il matchup che vuoi vedere Dauti se c'è Orchetti contro il matchup che vuoi vedere Orchetti Yagmoth c'ha Orchetti ma se riesce a strappare a turno 2 un calderone mandi in crisi il tuo opponent perché dici vabbè rispondi alle mie cose ma tanto le mie cose ritornano è questo secondo me il punto di potenza di questi due mazzi e Yagmoth c'ha il piano diciamo tra virgolette combo value ma anche il piano aggro-midrange assolutamente assolutamente sono pienamente d'accordo su questa cosa qua perché i tier 1 adesso sono forti appunto perché hanno una solidità incredibile perché hanno più piani più piani per vincere e il piano principale a volte è solo un po' il bait l'amo per l'avversario allora parliamo di un mazzo buffo di un po' di mazzi buffi dai mill lo mettiamo TRXT ma il mazzo gorio vengeance che è il rianimino di truiro dove lo mettiamo boh io non non ne ho la più paella idea perché penso di non averlo mai affrontato forse una volta è un mini scam non te lo saprei dire boh io sono cattivo lo metto tier 3 dai sono cattivo oggi di solito lo metto 2 o 3 io mi prendo la cattiveria dai va va tranquillo adnauseam carino ma rimane un tier xt secondo me anche se forse un po' più su tweed o storm pure jund boomer pure tier xd anzi jund boomer forse tier 3 perché è proprio brutto però aspetta perché jand saga dipende di che jand parliamo jand boomer io lo metto anche come tier xd tranquillamente ok jand saga ce l'ho con vren e 6 ah ok era il vren ok ma jand saga sai che secondo me zitto zitto cioè la gente non ci crede mai però secondo me zitto zitto un tier 2 ah si così alto ma è forte è un deck che è forte io onestamente ne parlavo proprio anche l'altro giorno con un amico e l'ho voluto trovare cioè io gli unici match che ho perso perché ho beccato char d'ercher che oddio c'era di risposta no no ma ci può vincere tranquillamente boseju lo slambi o comunque sia pt in needle scarti è un deck che secondo me le persone non ci credono abbastanza in jand tagavan ma per me è un deck forte e lo metterei a metà del tier 2 personalmente poi prendetemi per matto sto dicendo eresie allora secondo me il grande boost che ha avuto sto mazzo è il fatto di mettere una pallina a 1 quella che dà mana perché la grande evoluzione che ha avuto questo pazzo in realtà ultimamente è stato quello perché ti fa tenere delle mani più brutte con saga questa cosa qua diciamo che non ti fa perdere non ti fa maligare diciamo non ti fa maligare quella volta in più però il mazzo è troppo fair e questo è il problema suo la sfiga sua è che è troppo fair si grinda grinda come un pazzo ma gli altri grindano molto più di te finché esistono i mazzi con fagiolini questo mazzo qua non riesce a fare la sua diciamo questo è il problema del mazzo il problema è quello non riesci a prendere quel vantaggio che storicamente giunge vuole cioè nel senso al top deck sono più forte io perché le mie carte sono più forti quindi top deck ero per forza più forte di te ti faccio usare le risorse tanto comunque sia ho risorse altrettanto forti se non più forti in mano fagiolino è ecco quel mazzo che gli dice ah bello ma dove vai esatto scusami te c'hai due carte ma non riesci esatto esatto vabbè infect lo metto come TRXD umani pure credo adesso parliamo di mazzi un po' c'è qualcosa sotto il TRXD no no c'è la seconda linea dei TRXD for season ma quello è normale vince sempre un mazzo che metto in TRXD fa sempre top 8 di solito non for seasons parliamo di mazzi varakut forse tier 3 basso perché un po' non ce la fanno però adesso parliamo di questi 5 mazzi che secondo me sono ultra interessanti Elliot Arden's Case Living End Amuleto e Tritoni ok da dove vuoi partire quello che vuoi perché secondo me qui c'è da farsi del male qua è un disastro perché Malfalk guarda storicamente va qua o qua ma con quella tisciana lì non la vuoi mettere qua o qua no ma più che altro perché c'hai il buy praticamente ora non mi voglio sbilanciare troppo però a me da quello che mi è sembrato di vedere c'hai il buy da rinoceronti e se rinoceronti è così presente Tritoni prende nota e ringrazia onesta è più race di lui io penso sia troppo sì no ma c'hai delle tempo play bellissime puoi aver fiala c'hai la ex drinker lì come si chiama che è fortissima anche l'ulbreacher che entra e ti bauza a pezzo e ti bauza l'oceronte anche quello è forte tiscianona esatto più che altro tisciana perché gli puoi anche counterare il cascade stando al di fuori di force of negation che secondo me è una delle cose più interessanti di tisciana cavolo è difficile posizionarlo ora perché è troppo poco che esiste quindi no che esiste il deck allora diciamo che Tritoni è un mazzo per appassionati tendenzialmente non è non è mai stato un mazzo così tanto pop pop diciamo ma sai che secondo me adesso con questa Merfolk 9 è un tier 2 solidissimo ma proprio solido ma pure a metà ma secondo me è tranquillamente un mazzo che è nelle mani giuste io ce le ho ce le ho i miei due amici che giocano solo Tritoni a volte quando il meta è favorevole cavolo vincono sempre sempre per quello mi sembra sempre un mazzo fortissimo Tritoni da avere il sacoccia sì sì io ho sempre il terrore di me farlo perché fanno troppo strane poi quei Tritoni fanno troppe cose strane sì non sai mai a cosa giocare attorno living end lui è un mazzo underrated ma in una maniera pazzesca cioè io non ci credo che un mazzo come living end sia al di sotto del tier 1 e mezzo solo e soltanto perché esiste Dauti non ci credo perché è un deck che io lo sto beccando di continuo ora con Rino Ceronti più che mai e beh certo perché ha un matchup molto buono da Rino Ceronti ma vince consistentemente a turno 3 quel mazzo lì vince consistentemente a turno 3 living end cioè 15 land gioco il land cycling fixo tutti i colori ora hanno trovato gli slot anche per Fiori perché comunque si ha giochi l'elefante per picciartelo per me è sai cos'è forte anche di living end che adesso ti sciano e lo giocano pure loro e ti counterano il tuo endurance potrebbe potrebbe essere una roba ma io lo metterai il tuo pro-R sicuramente sì vabbè tanto il tier 1 e mezzo cioè non è un ordine non ti preoccupare però la cosa forte di living end è sempre stata quella che G1 tendenzialmente se la vince contro quasi tutti G2 G3 dipende molto dal meta quanto sono arrabbiati con te e questo non è un problema esattamente non lo so non so se è un momento in cui la gente è arrabbiata con te o no mi sembra di sì perché forse rinuncerò del resto abbastanza abbastanza in alto quindi sono tornati Calice main deck però post side scusami però mettono più gli esplosivi no quindi in realtà lui fa call ma living end allora col fatto che Calice cioè al massimo ne giochi 2 di side e ammesso che non stai giocando contro di me sognati di vederli consistentemente a turno utile per evitarti 50 di forza sul board da living end a turno 3 living end c'ha proprio questo fatto qui che ora non bricca cioè prima living end era forte ma c'era la sfiga che potevi trovare la mano bella sei proprio yugioh player perché? hai detto bricca ah vabbè sì però sì è vero la sfiga di living end è che prima si moriva da solo adesso c'è le carte che ti vanno a cercare le terre quindi puoi giocare meno ma soprattutto non muori più da mazzi a caso che giocano luna e tu hai perso a caso esatto 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 credo perché c'è 15 land esiste un deck in modern che gioca meno delle 18-17 land di ur che non si è living end no quindi ha un mazzo che ti gira solidissimo solidissimo sempre carte belle solidissimo adesso parliamo di questi tre che secondo me adesso è strano strano ci sta mi trovo in concorde con living end eliod che adesso sta tornando un po' che si ricordano che anche lui può giocare calderone arden's case che ha avuto un boost incredibile da calderone però è un mazzo estremamente difficile la sua vera sfiga è quella e poi il mazzo amoleto amolet titan che secondo me è sempre forte il vero god tier che nessuno ce lo dice eh sì è sempre lì è sempre forte anche lui dipende molto da quanto la gente è arrabbiata con te però cavolo cioè le giocate unfair che ha questo mazzo qua sono incredibili ha un piano molto forte molto solido però boh non so dove lo mettiamo tier 1 boh titano nelle mani giuste è il god tier in assoluto cioè tipo mistaken o edge non ricordo mai come si chiama il norvegese cioè è il mazzo più forte del modern perché ora c'hai anche anello cioè spesso e volentieri ti fai anello a turno 2 sì 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 puoi giocare anche slow titan come dicevo un amico che gioca solo quello non gli dici più niente perché anche lui come dicevamo anche prima è un mazzo che sì è combo ma c'hai anche un piano big mana ramp fortissimo quindi c'hai questi due piani ora c'ha anche oddio c'ha un nome impronunciabile per la carta che è uscita sempre con lost cavern of xan che se devi andare per il piano diciamo spell sunken l'incantesimo 3 spell hooking spell hooking scusami cosa però sai che è una carta che in realtà non è così non la vogliono così tanto dipende dal meta perché poi in base al meta loro se la giostrano con le azusa mettono gli explore dipende dal meta dipende dal meta però è una cartuccia in più è una cartuccia in più questo sono d'accordo a me sembra che però quella carta lì dia più valore a un suo piano big mana ramp non centrico sugli amuleti perché magari o non li hai visti o te li hanno tolti con le line binding e quella è una carta che comunque sia titano fa le sue robe quando con quella sul board quindi assolutamente prende più valore quel piano poi la fortuna è che è un deck difficilissimo solo pochissime persone al mondo possono vantare di saper masterare e vedere davvero ogni turno possibili e quindi tutte le linee tutte le cose questa cosa qui ah meno male esatto come Ardened Scales che mettiamo uno e mezzo o due ma senti Ardened Scales è stata una bolla secondo me no però tre no te lo dico no no tre è basso cioè secondo me non va oltre non va oltre il tier 2 cioè è un mazzo che tranquillamente ti va a un GP o un Four Seasons o a un Championship Qualifier e te lo vince però cioè secondo me è un mazzo che è un po' troppo hateabile e poi c'è Rino Ceronti c'è Rino Ceronti devi fare i conti con l'esistenza di Rino Ceronti che ora è più forte che mai ha preso un'altra carta che è fortissima contro Mamma mia sei forte contro Scaglie quindi mamma mia sei forte contro Scaglie non penso sia sia così forte solo perché batte Scam Scam consistente sì non più non più esatto non è più il deck che batteva Scam bene anche perché adesso il meta è un po' shiftato ci sono più Rino Ceronti ci sono più Yogmot che sono due mazzi da cui tendenzialmente non vinci ultimo mazzo Eliod Eliod dove lo mettiamo? con Calderone hanno provato delle build alcuni lo giocano con Anello l'ho messo a metà nel dubbio sì però nel senso è un mazzo che già da quando esisteva Prismatic Ending già solo quella c'è come esiste un pochino di più lui esiste ancora di più Prismatic Ending e se prima il suo punto di potenza era che letteralmente con Eliod non sapevi mai come interagirci c'erano con P.T.E. quando diventava creatura ora c'è Reline Binding c'è Prismatic Ending e poi sicuramente me ne sto dimenticando anche qualche altra di carta che mi tradisce anche semplicemente un B.O.S. sì ma poi c'è Cursed Totem se diventi troppo presente Tishana Tishana letteralmente banalmente anche lei secondo me io non lo vedrei nemmeno come Tier 2 ma magari so io che sono troppo sai che in realtà io questo mazzo lo metto un po' più alto anche io mi trovo d'accordo sul Tier 3 ma ho guardato un po' di streaming di Mattia Rizzi che lo sta provando molto e lui dice che ha un piano midrange come quello di Yogmoth anche meglio a volte perché soprattutto post side puoi mettere della roba molto brutta per la gente tipo il Santifar e Vec che è molto brutto contro la gente ed è una cosa che cambia soprattutto il fatto che post side metti roba molto brutta per la gente è una cosa che è importante sì piano midrange secondo me aveva più senso come come affermazione ai tempi di Uro Omnath con Field of the Dead e robe del genere che sto deck qui io ho giocato tantissimo mi piaceva tantissimo e io addirittura c'era un periodo mi ci divertivo a giocarlo in simil versione Value Town con le Gavoni che era bellissimo Gavoni bellissimo cioè Value Town ciao era bellissimo con le cose con oddio le 1-1 protezione rosso-nero Core Firewalker no quelle che guadagni sì come si chiamavano le MVEC sono non lo so Spirit Core Firewalker tipo no quello che fa guadagnare le vite no sì però quando entra creatura guadagni sì 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 ho capito ho capito che spammavi spammavi segnali e lì facevi veramente un valore infinito e quello era cavolo un piano midrange potentissimo secondo me Elliot la scampa in questo meta perché proprio può mettere le le tizie 1-1 che ora hanno proprio l'absus enorme tranquillo e che comunque sia ogni tua creatura che fai a parte che non me le togli ogni tua creatura che fai mi fa fare punti vita non passi perché non passi passi solo con i Dauti perché solo loro passano e può passare i Griff con Menance però tutto il resto non passa quindi sì se se parto sempre di quelle e becco solo Scam o Yagmoth probabilmente sono il god tier ma adesso che vedi tutta la tier list cambieresti qualcosa all'ultimo secondo me ci siamo no secondo me è abbastanza onesta no? sì è onesta uno può anche dire vabbè titano non è il god tier perché è tutto ma sì ma puoi mettere tutto più uno meno uno puoi mettere tutto più uno meno uno sì sì però quello che diceva è che comunque sia titano per quanto mi riguarda ma è da sempre il deck più forte in modern il problema è che è un deck difficilissimo però è un deck che letteralmente nelle mani giuste può fare veramente tanto i le i dati di goldfish secondo me sono un pochino distorti dalla realtà dei fatti quello sicuramente quello sicuramente quello che è il vero il vero potenziale di un deck la sua vera potenza per il semplice fatto che è chiaro che scam è il deck che è fortissimo se già te sei un buon player avere a disposizione un deck che ti carri a lui anche cioè è potentissimo come del resto anche rinoceronti cioè rinoceronti è un deck che ha sì delle linee difficili ma è anche un deck che se parti sempre con backup di force of negation non puoi perdere esatto esatto poi magari stappo faccio agente cioè sono quei deck che sì possono essere difficili però nelle mani giuste non mi splayano e soprattutto hanno anche la possibilità di carriare loro stessi chi li sta giocando quindi concordo a me piacciono i mazzi così che mi carriano un po' va bene va bene ti ringrazio che sei stato fino a qua con me vi ringrazio anche a voi se siete arrivati fino a qua flammateci pure nei commenti e adesso vediamo un po' come la balli se io te la sparo lei così secondo me bannano fiori e chiudiamo qua il video e chiudiamo qua il video chiudiamo tutto e chiudiamo